A che cosa stavi pensando? A una mia amica. Una mia vicina. Lei deve essere una persona importante, se ti rendi così lunga. E che sa parlare al cuore. Grazie, Teresa. Maria Santissima, che sei bella. Grazie. Maria Santissima, che sei bella. Grazie. Grazie. Voi siete le uniche persone che non ci hanno portato a sparo. Grazie. 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 Grazie.